Viva i partigiani, viva il 25 aprile, viva l'Armata rossa, viva il 9 maggio, viva tutti coloro che nel mondo oggi, dal Donbass alla Columbia, lottano il capitalismo e il fascismo. Questa che canterò è una canzone della resistenza antifascista attuale turca, del gruppo Euroma. Da oltre 30 anni, voce delle lotte nelle varie lingue, turco, kurdo, percasso, anatolico. Dal 2015, dopo decenni di arresti e torture e assassini, è stato vietato di suonare in Turchia e nella democratica Germania. Alcuni componenti sono in esilio, con una taglia sulla testa, gli altri in prigione. Ibrahim Gosek, bassista da oltre 300 giorni in sciopero della fame, ormai irreversibile. Elim Bolek, cantante di 28 anni, morta dopo 288 giorni in sciopero della fame. Questa canzone si chiama Zafriya Kundah, la vittoria vicina. Yorum Hathir, a Elim, a chi parteggia oggi. Questa canzone si chiama Zafriya Kundah, la vittoria vicina. Talga, dalga, gelioro, barrikat in atta vfenzo Bile var guruzmaya, sol var arcia maya, che prevar savaci maya zaffer yaknında Gen var verilecek, kardeş var ayatta, halk miele zaccanti prevar zaffer yaknında Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.